buon pomeriggio buon sabato come state tutto bene oggi un giorno un po sonnolento eppure brutto tempo quindi allora oggi non chiacchieriamo della mia ultima lettura bensì come avete richiesto in tanti dopo il mio ultimo video parliamo di delle new entry nella mia mini libreria e sì perché avevo messo un po di curiosità in più di una persona devo essere sincera vi ho incuriosito parecchio e giustamente devo rimediare allora vi farò vedere cinque libri uno l'ho già letto quindi sarà se non il prossimo uno dei prossimi libri del quale chiacchiererò detto questo bando alle ciance cominciamo perché se no non finisco più allora voglio fare una premessa tra l'altro questi libri sono ovviamente rispettano tutti il mio budget standard cioè non devono superare possibilità i 12 euro ma chiudono un occhio anche 13 quindi 12 13 ma soprattutto sono stati comprati in sconto quindi io ritengo di aver fatto degli ottimi affari soprattutto gli ultimi tre poi vi spiego perché allora primo libro comprato e già letto alessandro da venia bianca come latte rossa come il sangue edito mondatori penso che questa collana si chiami numeri primi non lo so allora costava 13 io in realtà l'ho preso a 11 e 05 al supermercato allora quando uscì non mi ricordo di quando è questo libro boh chi se lo ricorda comunque fu un caso editoriale ha venduto tantissimo è stato recensito in tutte le salse da giornali riviste programmi tv ne hanno parlato io di solito e so che qualcuno è come me quindi non mi sento sola da questo punto di vista so che quando io sono molto diffidente nei confronti delle recensioni dei giornali delle riviste perché spesso e volentieri molti puntano solo a fare pubblicità quindi è possibile anche che la sostanza vera e propria non sia poi così entusiasmante mi è capitato di leggere un romanzo che era stato paragonato un romanzo di un artista del un artista scusate di uno scrittore del nord che era stato paragonato a larson adesso tutti gli scrittori del nord vengono tutti paragonati a larson non si sa perché e si parlava sto parlando dell'ipnotista l'ipnotista è stato recensito stra bene in tutti i giornali in tutte le riviste su youtube su tutti i motori di ricerca sui forum io l'ho trovato una schifezza sinceramente quindi è stata la prova che non bisogna fidarsi di queste recensioni tutto questo per dirvi che non è il caso di questo romanzo perché mi è piaciuto veramente tanto lo comprai con scetticismo mi sono ricreduta a metà del libro ho cominciato a ricredermi effettivamente devo dire che è un bel romanzo soprattutto lo consiglierei ai ragazzi di 15-16 anni perché il protagonista è il loro coetaneo è una bella storia ragazzi se vi va di leggere qualcosa se volete cominciare perché non cominciare da qui la cosa soddisfacente è che questo è il secondo libro di un autore italiano che compro e ne resto soddisfatta quindi piano piano sto curando tra virgolette il mio pregiudizio nei confronti degli autori italiani vedremo vedremo se riuscirò nell'intento non ve ne parlerò subito perché prima di questo avevo già letto il mandolino del capitano corelli sì quello che era nelle ultime pagine rovinato me l'hanno cambiato neanche lo scontrino hanno voluto vedere quindi meglio così anche quello è un bel libro ve ne parlerò quindi non so quando però questo verrà dopo di quello tra l'altro questo non mi ricordo se fu pubblicato la prima volta in copertina rigida mi ricordo solo che costava di più di 13 euro ma la mia pazienza è stata ripagata allora secondo libro acquistato chiara ecco ne ha parlato lei mi sono incuriosita l'ho voluto comprare la verità è che quando chiara pubblicò il suo video ne rimasi molto incuriosita lo cercai in lungo e in largo e puntualmente non lo trovavo mai quando avevo perso le speranze e soprattutto quando quando è che sono andata in libreria? una settimana fa? sì avevo la mia lista di libri da comprare e mi ero giurata a casa che non avrei deviato neanche di un millimetro da questa lista avevo ormai perso le speranze di trovarlo invece era lì e la mia lista il mio pezzettino di carta è stato appallottolato e buttato nel secchio puntualmente perché poi ho trovato anche gli altri tre vi faccio vedere poi allora il diario delle fate di Jane Yolen e Midori Schneider edito Newton Compton il prezzo c'era la copertina volante che io ho tolto perché questo lo comincerò subito appena finito il video e quelle copertine volanti mi danno fastidio perché scivolano l'ho tolto c'era il bel bollino rosso di 9,90 euro che ho faticato veramente a toglierlo ho rischiato anche di rovinare la copertina e mi metto comoda scusate tutto live and unplugged tra l'altro lancio un appello alle case editrici non mettete questi bollini sulle copertine non ce li dovete mettere perché rovinano la copertina la strabbano ma a me piccola parentesi quindi il video di Chiara mi ha incuriosito ho bisogno di leggermi un bel fantasy uno urban fantasy come viene chiamato fantasy urbano detto proprio tra di noi vediamo come va vediamo come va intanto ringrazio Chiara per la dritta che a quanto pare è un bel libro 9,90 euro uh non vi ho detto le pagine di questo mannaggia mannaggia sono distratta allora questo è 252 pagine se gli va di mettere a fuoco vabbè fidatevi sono 252 pagine è scritto largo questo è scritto medio sono 3,75 se non sbaglio aspettate sì cioè no 3,72 sbaglio metti a fuoco ecco quindi vedremo un po' vedremo vedremo lo inizierò appena finito questo video poi il sottotitolo di questo video potrebbe essere la pazienza che viene ripagata perché? perché mi sono accaparrata una trilogia che appena uscita ogni singolo libro costava 22 euro io invece aspettando pazientando le ho prese a 10 euro l'uno finalmente la Millennium Trilogy è mia vi ricordate quanto costavano? sì non sto scherzando quando dico che io l'ho visto a 22 euro in una libreria l'uno l'uno e mi è preso un colpo bisogna avere pazienza ragazzi perché all'inizio la novità la vogliono tutti e tutti sono disposti a pagare qualunque cifra pur di averla poi la curiosità la pubblicità il film hanno tutto ha tutto contribuito a fargli evitare il prezzo di questa trilogia ma tanto dovete sapere che prima o poi il calo di vendite c'è e per comunque continuare a vendere il prezzo lo devi abbassare e prima o poi tutto va in sconto tutto va in sconto l'attesa devo essere sincera l'attesa è stata lunga comincio a leggere questa trilogia quando ormai tutti ce l'hanno è stranota stranrisaputa se ne è parlato è lungo e largo però alla fin fine che mi importa? così non ho sforato il mio budget nessuno dei libri che vedete qui ha sforato il mio budget di 12 massimo 13 euro perché questi qui li ho pagati 10 euro e 50 all'uno tra l'altro li ho li ho comprati tutti e tre insieme perché adesso vedete pure da questa cosa qui stanno stanno rigirando e riuscirà hanno già finito di girare la il film la versione americana della Millennium Trilogy quindi prima che i prezzi ulteriormente risalgano ho deciso di comprarli tutti e tre tagliamo la testa al toro e basta però 10 euro l'uno sono molto soddisfatta la mia pazienza è stata ripagata ho aspettato tanto questo è vero però sono felice sono felice quindi non buttatevi a capofitto solo perché è una novità aspettate prima o poi tutto va in sconto questo è il motto della della mia vita prima o poi tutto va in sconto uno dei motti della mia vita allora bianca come latte rossa come il sangue vi ho detto che già l'ho letto il prossimo sarà questo non credo che questi tre no non credo che li leggerò subito perché ho prima un'altra biografia e un altro libro di Filippa Gregory però non lo so vediamo può darsi anche che comincio subito dipende un po' da come va da come mi sento una cosa è certa ci metterò parecchio per leggerli ma anche quello lì perché la sera ultimamente arrivo sempre più stanca e non ce la faccio a leggere più di dieci pagine a volta mi addormento proprio quindi vedremo vedremo allora spero che non so spero che i miei affari abbiano reso felice anche qualcun altro oltre che me stessa no veramente adesso non so se sono ancora in sconto del 25 però se lo sono e se qualcuno è interessato a comprarli ma non non lo aveva ancora fatto perché come me aspettava che il prezzo calasse è il momento è il momento e poi tra l'altro ho notato che questi due si trovavano ma l'ultimo nel nell'angolo nello stand dove c'erano mi sembra che erano tutti i marsilio i maxi di marsilio questo non c'era e io ho subdorato puzza di bruciato come si dice dico non vuoi vedere che poi il terzo ti costringono a comprarlo a prezzo pieno ho girato ho girato ho girato e ho preso anche il terzo a 25% in meno le mie peripezie non interessano a nessuno quindi no comunque è vero si trovavano nelle librerie dove vado di solito si trovavano solo i primi due il terzo non si trovava e dico guardate se non mi tocca comprarlo a prezzo pieno e invece poi l'ho trovato allora io vi auguro buona Pasqua speriamo che il tempo ci assista perché a Pasquetta di solito anche 10 minuti ma deve piovere perlomeno da queste parti mi raccomando datevi da fare con le uova di Pasqua rendete onore all'uovo di Pasqua e niente non mi resta che salutarvi e ringraziarvi ancora una volta so che mi ripeto però noto che le visualizzazioni al mio canale aumentano sempre di più e questo è sorprendente mi rende veramente felice io che pensavo che nessuno potesse seguire i miei video quando pubblicai il primo non avrei mai pensato che potessi raggiungere 17.000 visualizzazioni sì mi sembra che erano 17.000 stamattina ma quando mai e invece grazie veramente grazie di cuore va bene adesso vi saluto vi abbraccio ci vediamo presto non so quando comunque godetevi le feste godetevi la vostra famiglia i vostri amici e buon inizio settimana ciao ciao